Sul numero di aprile della rivista americana Science Signal è stato pubblicato un articolo che è il frutto della collaborazione fra il mio gruppo di ricerca ed altri ricercatori italiani ed europei. Questo lavoro è incentrato sullo studio di una proteina, si chiama ERG, che è normalmente espressa nel cuore e nel cuore regola il battito cardiaco. Noi abbiamo dimostrato che la stessa proteina in una sua peculiare conformazione, cioè legata ad altri ricettori sulla membrana delle cellule tumorali, regola il processo di metastasi. Per cui quello che adesso andiamo a proporre è l'uso di farmaci o di tool molecolari, anticorpi o qualsivoglia, che siano in grado di sbloccare questo complesso che ERG forma con i ricettori di adesione nelle cellule tumorali per bloccare il processo di metastatizzazione nel tumore della mammella.